questi attrezzi parkside non si trovano mai escono una volta ogni tanto li ripetono sempre e poi i prezzi sono aumentati tantissimo ma stanno facendo gli sconti non ci si capisce più nulla ragazzi questo è il volantino della lidl con gli utensili della parkside le uscite sono previste per il primo dicembre 2022 e questo è il volantino con le uscite comprese fra giorno 28 novembre e 4 dicembre 2022 vediamo tutti gli articoli vediamo i vari prezzi di quello che già possiedo vi dirò tutte le mie impressioni il resto lo scopriremo assieme quindi mettiamo il volantino sul bancone e osserviamolo iniziamo e andiamo quindi a pagina 32 del volantino giovedì primo dicembre 2022 troveremo come primo articolo proposto un avvitatore a percussione ricaricabile è l'avvitatore da 180 newton metro ad impulsi che serve ad abitare grandi viti sul legno tipo tirafondi eccetera ma anche per svitare alcuni bulloni con questo sono riuscito a svitare anche le ruote della macchina che vi ricordo che vanno serrate tra 100 e 120 newton metro circa poi se il gommista la vita con tutta la sua forza ovviamente con la pistola pneumatica sarà impossibile utilizzarlo per quello scopo ma come vedete in questa immagine stanno utilizzando questo avvitatore per abitare una vita quindi diciamo l'utilizzo normale è quello subiti di grandi dimensioni che con altri tipi di abitatori non si riuscirebbero ad abitare così abitarebbero a fatica costerà 29 euro e 90 senza batterie senza caricabatterie questo invece è l'attrezzo multifunzione ricaricabile 3 in 1 che costerà 69 euro sempre senza batteria e senza caricabatterie avrà diverse funzioni infatti 3 in 1 perché ha la possibilità di poter tagliare come un gattuccio la possibilità di essere utilizzato come trapano avvitatore e la possibilità di essere utilizzato come utensile multifunzione oscillante questo può utilizzare sia le lame per tagliare che la carta abrasiva quindi hanno rimosso il quarto pezzo che rappresenta nelle versioni precedenti che serviva solamente per la carta abrasiva più in basso troviamo invece il trapano avvitatore come sempre discusso perché in diverse versioni ha presentato alcuni problemi costerà 29 euro e 99 senza batterie senza caricabatterie corredato anche da alcuni inserti per poter abitare svitare e alcune punte di trapano è un avvitatore che se riesce bene in base alle versioni comunque è un ottimo prodotto perché ha delle ottime prestazioni e può andare bene sia per abitare svitare delle viti anche grandi che per praticare dei fori anche sul cemento purché non siano delle punte molto grosse a fianco troviamo anche l'affilatore per punte di trapano a 22 euro e 99 in questo caso come vedete i prezzi sono un po tutti aumentati ma come d'altra parte anche nei vari brico eccetera e questo lo possiedo lo utilizzo con soddisfazione ho fatto anche una video recensione nella quale dimostro come si utilizza e riesce effettivamente ad affilare le punte di trapano solo per metallo per mi raccomando quelle per legno e quelle per il muro non si possono affilare e le punte che non hanno più una buona filatura oppure che si siano spezzate si possono recuperare semplicemente inserendone questi fori facendo su e giù mentre la mola all'interno sta ruotando per ottenere una filatura che non è sicuramente professionale ma che ci permette di continuare a utilizzare le punte che altrimenti dovremmo buttare c'è chi le affila manualmente io non sono capace e quindi utilizzo questo sistema poi ci saranno le punte impact con set composti da 32 oppure da 29 pezzi e uno ha anche delle bussole all'interno l'altro invece sono solamente inserti veloce a recensite ma avete visto utilizzare anche recentemente costeranno 12 euro 99 come l'ultima volta questa invece la pompa compressore ricaricabile questa volta a differenza della versione che ho recensito io c'è anche un led e le case in cui dobbiamo regolare la pressione per esempio delle gomme di sera con questo led sicuramente saremo facilitati vi lascerò il link di tutti questi articoli per andare a vedere le varie recensioni le varie prove più in basso troviamo batteria da 4 ampere a 34 euro e 99 batteria da 2 ampere compreso di caricabatterie potete ricaricare la batteria da 4 ampere tranquillamente anche con i caricabatterie da 2 ampere semplicemente richiederà il doppio del tempo ma anzi farà bene pure alla ricarica perché una ricarica lenta per una batteria è migliore di una ricarica veloce da questa parte troviamo anche saldatore ricaricabile per stagno 19 euro 99 sempre senza batteria e senza caricabatterie che ho recensito recentemente e questa invece la pistola per verniciare ricaricabile che può essere utilizzato sia per verniciare per innaffiare per spargere il medicinale sulle piante in tempo di kobe questo tipo di prodotti venivano utilizzati per igienizzare le superfici e recentemente oppure pubblicato un video mentre stavo dipingendo la cameretta l'unica nota negativa che in base a come diluite il colore alla pressione che decidete di dare al tipo di ugello che scegliete eccetera eccetera si può formare più o meno nebbiolina diciamo di colore in giro per la stanza quindi utilizzatelo dove non avete mobilia perché utilizzandone all'interno ha soprattutto utilizzata anche la mascherina c'è il rischio che tutto questo colore vado a depositarsi su mobili eccetera ripeto si può diminuire trovando il giusto compromesso però un minimo si forma in basso troviamo anche la torcia led ricaricabile che a differenza della versione che avevo recensito io questa volta un fascio luminoso leggermente più ampio quindi più comoda rispetto alla mia perché permette di illuminare anziché in profondità con un raggio stretto in modo più grandangolare con una distanza pochettino più ridotta e ha una potenza luminosa di 280 lumen funziona con batterie della linea ex 20 v team quindi comodissima questa invece la troncatrice radiale che ci permette di eseguire dettagli sia 45 gradi con la rotazione a destra e sinistra che inclinando la testa pura destra e sinistra quindi tagliando un pezzo con più possibilità di inclinazione costerà 119 euro anziché 139 euro la lunghezza massima di taglio sarà di 340 mm invece l'altezza di taglio massima sarà di 65 mm ma questo se seguiamo in modo perpendicolare invece tagliando a 45 gradi si ridurrà a 38 mm lo stesso giorno a 14 euro e 99 ci saranno anche le lame per sega circolare con diversi numeri di denti più in basso seghetto alternativo a corrente elettrica da 800 watt 34 euro e 99 alla funzione pendolo che permette di eseguire dettagli più aggressivi a discapito però della qualità di taglio perché essendo più aggressivo il taglio sarà meno raffinato oppure possiamo diminuire o addirittura ridurre completamente questa funzione di pendolo tagliando un poco più lentamente ma con una qualità superiore verranno dati in dotazione anche alcuni accessori tra cui l'aspiratore la battuta parallela un paio di lame è una chiave a brugola queste sono le lame di ricambio per seghetto alternativo sono diverse tipologie ci sono per legno per ferro oppure un set misto e costeranno 3 euro e 99 5 pezzi più in basso invece ci saranno gli accessori per abrasione che io vi consiglio di comprare soprattutto le spugnette perché vi permettono di passare la superficie abrasiva anche in angoli che effettivamente con la carta abrasiva non si possono raggiungere e sono molto comode hanno due lati con diversi tipi di grane questo invece è il martello demolitore da 89 euro 1300 watt come potenza assorbita e 15 joule come potenza del colpo per calcestruzzo pietra e opere in muratura quindi uno strumento specifico per chi deve demolire non è un trapano quindi non la funzione in rotazione ha solo la funzione di martello pneumatico questa invece è la saldatrice multiprocesso versione successiva a quella che ho recensito io io ho recensito la versione a 1 questa è la versione a 2 e può saldare sia con elettrodo può saldare con il tig ovviamente non il tig pulsato ma un tig a striscio può saldare sia con il filo animato che con il filo pieno con il gas insomma versatile effettivamente funziona bene tra l'altro raggiunge 200 ampere andate a guardare la mia recensione per farvi un'idea super giù dell'articolo qua in basso abbiamo dei morsetti e vite che permettono di tenere fermi i pezzi fra di loro se dobbiamo incollarli oppure se dobbiamo creare una struttura a renderci conto del come sta procedendo il nostro progetto oppure per tenere fermi dei pezzi che dobbiamo tagliare dipingere eccetera e costeranno 12 euro e 99 da questa parte invece 7 euro e 99 ci saranno dei set di grilli a vita e moschettoni in quest'altra pagina invece troviamo un po di abbigliamento quindi una giacca in pile da uomo 11 euro e 99 alcune maglie dei calzini e questa che è interessantissimo perché una borsa porta pranzo quindi avrà sicuramente una funzione termica per mantenere la temperatura del cibo e costa la 17 euro e 99 marchiata parkside ma non finisce qua perché il 28 novembre troveremo altri utensili ma questa volta giocattolo non saranno parkside tradimento questi sono della enel ci sarà un trapano avvitatore un trapano battente oppure un seghetto alternativo e poi fatemi sapere se può interessarvi un drone con videocamera praticamente somiglia tantissimo al dj itello che io possiedo con il quale mi trovo molto bene eventualmente se vi interessa fatemelo sapere perché potrei farci anche una recensione sempre il 28 novembre troveremo un articolo che io apprezzo tantissimo e sarebbe questo faretto led energia solare con sensore di movimento che come vi ho detto anche in altre occasioni io utilizzo nel cancello di ingresso di casa mia e non ho bisogno di alimentarlo in nessun modo perché con il suo pannellino si ricarica la batteria ed è sempre funzionante è una versione leggermente differente questa di colore nero mi intriga parecchio anche perché il mio ha preso tantissima acqua dopo anni di utilizzo ogni tanto noto che la luminosità si abbassa c'è uno sfarfallio quindi quasi quasi ci faccio un pensierino ci saranno anche alcune lampade alcuni sistemi di illuminazione di bagno eccetera ma questo è davvero molto interessante e nell'ultima pagina quindi per il super weekend dal 2 al 4 dicembre ci saranno anche il miscelatore per colore in malta a 49 euro e le scarpe antinfortunistiche da uomo a 19 euro e 99 anche la colorazione non è male quindi se vi servono scarpe antinfortunistiche fateci un pensierino e il video finisce qua ragazzi questi erano quindi gli articoli che troveremo in vendita nella settimana compresa fra il 28 novembre e il 4 dicembre 2022 io voglio dedicare questo video giuseppe marino che questa notte ci ha lasciato ed era un commesso della lidl bravissimo e signora deciso di chiamarla se meritavo una dedica mi invita a iscrivervi al mio canale mettere mi piace questo video cliccare sulla campanella per attivare le notifiche ci vediamo tutti nei prossimi video ciao da riccardo e a presto